Ultimi frenetici tentativi di salvare la Grecia dalla bancarotta e disinnescare la crisi del debito. I ministri delle finanze della zona euro si riuniscono questa sera a Bruxelles per decidere l'approvazione del nuovo piano di aiuti di oltre 130 miliardi di euro. Essenziale sarà anche la finalizzazione di un accordo con il settore privato che deve accettare perdite fino al 70% del valore delle obbligazioni greche. Il tempo stringe e si deve trovare un'intesa entro mercoledì prossimo, ammonisce Zolt Darvas dell'Istituto di ricerca a Bruegel. Se ci sarà un ritardo nell'accordo con il settore privato o se per una ragione o per un'altra non ci sarà un accordo sulla riduzione volontaria del debito, anche se ci sarà un'intesa sui 130 miliardi di euro di aiuti, è probabile che ci sia una bancarotta del governo greco. La Grecia potrebbe diventare insolvente già dal 20 marzo, quando Atene dovrà rimborsare oltre 14 miliardi di euro. Con le nuove misure si vuole riportare il debito greco ad un livello di maggiore sostenibilità.